Un convegno sulla pedagogia clinica, perché? La pedagogia clinica è una scienza che è nata in 1974 e trova oggi questa occasione solenne di festeggiare il quarantesimo anno della sua esistenza. Un'occasione che vede riuniti i rappresentanti della pedagogia clinica italiana e molti esperti di tante nazioni del mondo. Per questo è un congresso che siamo andati a definire congresso mondiale, proprio perché rappresenta 15 nazioni del mondo e con queste rappresentanze è l'opportunità che ci viene data come associazione nazionale dei pedagogisti clinici di incigantire gli effetti dei nostri principi scientifici e culturali. Nel convegno avete parlato di scenari e prospettive professionali, quali sono? I pedagogisti clinici che noi stessi formiamo qui in Italia sono degli specialisti che assumono delle abilità metodologiche di intervento sulla persona per promuovere degli stati di nuovo equilibrio, di nuova capacità operativa nella vita.